Buongiorno a tutti, oggi siamo con gli allievi della sesta classe. Come tema di oggi abbiamo esercizi, così voi dovete svolgere gli esercizi sulle parti della grammatica che abbiamo già preso prima. Gli esercizi hanno a che fare con l'esercizio 1, completare con le preposizioni corrette. L'esercizio 2, scegliere la forma della preposizione giusta. L'esercizio 3, trovare la preposizione articolata e dividere poi con preposizione semplice, preposizione articolata più l'articolo determinativo. Nell'esercizio 4, a che ora completate le risposte con la preposizione corretta, dovete mettere la preposizione giusta. Nella seconda parte del video, continuiamo con l'esercizio 5. Secondo le immagini, dovete trovare la frase giusta e legare, abbinare con le frasi. Nell'esercizio 6, abbiamo un cruciverbo, completiamo di nuovo con le preposizioni articolate. Poi, nell'esercizio 7, ci sono le preposizioni, nelle quali dovete mettere, secondo il senso della frase, la preposizione giusta. Continuiamo con l'esercizio 9. Che cosa fa fido? Dove è fido? Completate le forme oppure completate le frasi con gli avverbi di luogo, accanto, davanti, dietro e sotto. L'esercizio 11 è un altro tipo di esercizio. C'è nella camera cosa? C'è nella camera di Marco. Dovete capire cosa c'è e cosa ci sono. L'uso di c'è e ci sono. Test finale. Cosa significa? In questo libro viene presentato tre esercizi, nelle quali voi dovete scegliere le forme giuste della preposizione nell'esercizio A. Nell'esercizio B, scegliere la risposta giusta per ogni parte della frase. E nell'esercizio 3, abbiamo un cruciverbo. In questo cruciverbo voi dovete scrivere i nomi di tutti questi oggetti per capire cosa si tratta. Questo test finale significa che voi dovete mettere in uso tutte le vostre conoscenze prese durante l'unità 3.